I tre Info Point di Marina di San Martino e del Tarnone sono delle cattedrali nel deserto, costruiti in luoghi non raggiunti dai visitatori e completamente fallimentari per la promozione turistica della città. Pensa che solo San Martino e Tarnone ci sono costati 2,6 milioni di euro. Noi proponiamo ridefinire il sistema degli Info Point da integrare con app dedicate, calendario unico di tutti gli eventi organizzati sul territorio comunale, sito web comunale dedicato per accesso immediato a tutte le informazioni turistiche della città, promozione continuativa del territorio a livello internazionale, monitoraggio costante della qualità delle acque balneabili. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!